Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato l'esercizio provvisorio del bilancio per il 2015 durante l'odierna seduta pomeridiana. La legge approvata autorizza per i primi quattro mesi dell'anno prossimo l'esercizio del bilancio di previsione presentato dalla Giunta al 9 dicembre scorso al fine di assicurare e regolare pagamento di stipendi, oneri, fornitori e spese ordinarie, fin tanto che non sarà approvato il bilancio preventivo 2015. Durante l'esercizio provvisorio la Regione non potrà effettuare spese di investimento né contrarre mutui, ma sarà garantita l'ordinaria gestione delle ulse, delle aziende ospedaliere e delle aziende partecipate dell'ente. Fuori dall'aula ha tenuto banco il presidio dei dipendenti di Veneto Nanotech, società regionale fondata nel 2003 per fare ricerca nel settore delle nanotecnologie. I 50 dipendenti ancora in attività nei tre laboratori di Padova, Rovigo e Marghera hanno fatto appello al Consiglio regionale per sollecitare la ricapitalizzazione della società in modo da poter proseguire gli 80 progetti di trasferimento tecnologico in corso ed evitare il default finanziario. Su un fatturato di 6 milioni di euro annuali la società ha accumulato un passivo di circa 3,8 milioni. Siamo in una situazione di impasse legata al fatto che la società ha fatto una due diligence in cui ci sono dei problemi di natura di bilancio e contestualmente però moltissime commesse aperte ai progetti di ricerca attivi in cui le rimaste 50 persone operative tengono molto anche per manifesta volontà e endorsement dati da molte imprese regionali.